Mi traduca immediatamente queste frasi Scusi, dove sono i bagni? Enciulio Enciulio? Enciulio, perciò, dove sono i bagni? Ma sono tre parole, perché le dice trenta? Scusi, dove è il bar? Voi siete in bar? Questa mi sa che è giusta È talmente semplice Signora, ha notato che oggi abbiamo scritto frasi facili Anche per, così, come dire, avvantaggiarlo un pochettino nella traduzione Grazie Prego Signora, traduco, le stacco l'amplifon Scusi, dov'è il posto di ritrovo? Comitive? Voi siete in comitive ritrovo? Eh, ritrovo, signora, questa l'ha inventata No, 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 no Questa l'ha inventata Voi siete in comitive Bethaifung? Bethaifung Scusi, qui si vendono superalcolici? Per come? Vercauvenci Vercauvenci, dai Vercauvenci, vendersi Vendere è vercauven In tedesco Vercauvenci Lascia il microfono! Mi si sta ribellando la signora, eh? Vercauvenci alcol Bene Per favore, mi indica dov'è l'obitorio Per favore, mi indica dov'è l'obitorio? Stebentor? 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 Ma allora, ha detto un'altra prima! Come si dice obitorio? Obitorio! E allora cosa ha detto? Aaaaaaah! Sta improvvisando, signora Vedi che avevamo ragione ad arrabbiarci con lei Che ci prende in giro, signora Lei se ne approfitta Perché sa che noi non possiamo verificare Brutta vecchiaccia Le metto un idrante nel sedere adesso Traduca questa Per favore, mi puoi dire dove potrei suicidarmi? Però, eh, insolvenci Bitte Eh, können si sagen Wo cani sterben? Cani sterben? Wo, wo Do mi posso suicidare? No, mi risponda Lei dove potrebbe suicidarsi, signora? Ah, vai si Non lo so Svai si Svai